e se ti fa piacere iscriviti al mio canale e lasciami un commentino, mi sarei felicissimo oggi mi trovo a Cisanello, provincia di Fissa e ero venuto a trovare un amico, il suo peraso poi sono andato al bar per prendere delle caramelline e mi sono girato e ho visto una macchiolina scura a terra ho detto no, guarda, mi sembra un uccellino, infatti ho trovato questa creaturina a vedere come mi mangio al dito, guarda, perché sembrava che sia di nido, guarda che lavoro, guarda che roba guarda qualcosa, io pensavo che era ferita, ma forse non è nemmeno ferita, chissà, forse è da nido domani mattina io la porto alla lipo, sento un po' ora, a notte me la porto a casa fai anche te questi gesti che ti danno, ti danno tanta sporcizia addosso ma alla fine ti danno tanto amore queste cose qui hai dato un po' di crack e poi l'ha mangiato ma è qualcosa ragazzi è qualcosa è un uccellino che mi è sempre piaciuto però non l'ho mai visto da vicino è uno spettacolo è uno spettacolo me la terrei se potessi me la terrei però in casa non posso tenerla mi dobbiamo portarla alla lipo ma col quale diviso in due perché ci sono già innamorato ti sono già innamorato guarda che roba guarda che roba guarda lì perché lì sembro la mamma con questo video qui da Cisanello ti saluto e ti invito anche te a fare queste cose qui veramente invito tutti a fare questi gesti qui perché alle lunghe magari non subito ma un domani riceverete riceverete amore come è successo a me io l'ho sempre fatta queste cose qui da una vita che le fa ho salvato un casino di uccellini alle lunghe poi mi è arrivato tanto amore mi è arrivato tanto amore veramente e sono molto sereno ciao e al prossimo video ciao a tutti i nostri spettatori ciao a tutti i nostri spettatori